Ciao, ciao Ernestina, che cos'hai? Sono triste... Perché sei triste? Mi hanno violentato! E che è stato questo porco? E che è stato questo porco? Infruttivendo! E che cosa ti ha fatto il fruttivendolo? Mi ha fatto vedere... Il cedriolo! Signor fruttivendolo, ma lei è un porco! Oh, ma io niente fisi, mi sta rotta una panza! Ha qualcosa da dire in giù di scolpa? No, niente! No, niente!